Il lavoro che ci stiamo approcciando a fare è relativo alla messa in evidenza del virus covid-19 a livello di cani e di gatti relativamente a persone a cui è stata fatta diagnosi di positività a questo tipo di virus. Lo scopo è di valutare la presenza del virus nella popolazione canina e felina di queste particolari persone. Nel caso del gatto è stata richiesta semplicemente una messa in evidenza del virus a livello di tampone del cavo orale e in pratica si tratta di questo tipo di campionamento, mentre nel caso del cane contestualmente a questo tipo di prelievo viene richiesta un'aliquota di siero, quindi di sangue, al fine di valutare la presenza di anticorpi nei confronti di questo particolare virus. Si tratta di un tipo di collaborazione che è stata messa in atto con i comuni attualmente di Galliate e di Trecate con l'ausilio ovviamente di questi comuni, in quanto sono i sindaci che hanno accesso a informazioni particolarmente private e riservate e ci permettono di accedere ai cani e gatti di quelle persone che ovviamente in maniera assolutamente volontaria e non coercitiva vogliono partecipare a questo tipo di studio.